Si apre a Firenze un nuovo capitolo dello scontro tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e i magistrati che esprimono valutazioni negative sui suoi provvedimenti. È il caso del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che martedì ha accolto il ricorso contro l'ordinanza emessa dalla prefettura di Firenze lo scorso aprile che disponeva il divieto di sosta o passaggio in 17 zone rosse della città a persone denunciate per determinati reati come rissa, spaccio o vendita di merce abusiva. Il vice premier ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato ma ha anche ordinato agli uffici di accertare uscite pubbliche e collaborazioni dei magistrati. A poche ore dall'approvazione dal TAR del ricorso presentato da Matteo Innocenti di Potere al Popolo con una denuncia alle spalle e che ha promosso l'iniziativa legale al TAR per motivi politici e perché si è sentito discriminato e leso nei suoi diritti parla l'avvocato Cino Benelli. Ho voluto questo incarico pro bono, dice, per dovere civico. Quello che desta preoccupazioni soprattutto noi avvocati è il fatto che si tenda a comprimere l'esercizio delle libertà costituzionali sulla sola scorta di preoccupazioni soggettive che sono legate alla percezione di sicurezza piuttosto che all'effettiva sicurezza presente in città. Questo perché l'ordinanza stessa nelle sue premesse parla di una sostanziale messa in sicurezza della città e questo non giustifica l'adozione di provvedimenti straordinari. Quindi si possono utilizzare gli strumenti ordinari come rilevato dal TAR. Nella direttiva Salvini si parla di una necessità di un rigoroso accertamento dei presupposti per l'adozione di questi provvedimenti. Quindi insomma stupisce la frettolosità invece con cui è stato adottato questo provvedimento.